E' una scommessa, siamo tutti quanti over 50, ci stiamo molto divertendo e ci piacciono le sfide. E' aprire qualcosa del genere a torre, nella vera capitale della pasta, per noi è un'avventura alla quale non possiamo rinunciare. E così, con le nostre esperienze, i nostri anni e il nostro palato, ci siamo buttati a capofitto in questa avventura. Speriamo che tutto vada per il meglio. Dieci primi, da dove nasce? Dall'idea di quattro amici buongustai, che amano mangiare bene e soprattutto che amano le tradizioni. Io sono napoletana, però la pasta si è sempre fatta a torre annunziata, lo ricordo da quando ero piccola. E mi sembra giusto, non per togliere nulla a Gragnano, che però il primato venga riportato a torre. Perché è giusto che sia così. Perché non è vero che l'acqua di Gragnano, perdonatemi, ma è l'acqua di torre che fa la differenza con la pasta. A Gragnano dicono che è la loro acqua. Io non sono d'accordo, senza nulla a togliere, alla pasta di Gragnano che è buona lo stesso. Ma non ha la stessa tradizione di torre, che è per tutta una serie di cose. Adesso, a parte gli scherzi, però è vero che c'è un microclima e per questo motivo la pasta veniva fatta proprio qua. Detto questo, ripeto, c'è sempre il gioco in mezzo. Noi non ci prendiamo sul serio. Per cui abbiamo cominciato questa avventura perché volevamo divertirci e continuiamo a divertirci. Dieci primi, dieci primizie, dieci... Dieci primi piatti. Può essere pure dieci secondi piatti, non lo so ancora. Però per adesso dieci primi piatti. Dieci primi perché si può preparare anche in dieci primi. Non la pasta però. Però il sugo è biologico ed è già pronto. Abbiamo anche la genovese. Quindi il dieci anche perché premia, no? Il dieci è un bel voto. È un voto tondo. E speriamo di avere anche la lode. Speriamo, noi aspiriamo a questo. Grazie. Un augurio di buon Natale per i telespettatori. Sì, ovviamente, tanti auguri per un sereno Natale, che sia un Natale particolare. Spendiamo di meno ma spendiamo meglio e cerchiamo di mangiare cose buone. Non necessariamente le mie, ma cose buone in generale. A tutti buon Natale.